La valutazione purtroppo arriva dai cittadini, dalle imprese, dai comuni, dalle case di riposo che in questo anno di grave crisi sanitaria non hanno ricevuto nulla o quasi da Regione Abruzzo. L'unico ente assente in questa filiera tra comuni, province, regioni e Stato centrale è proprio la nostra Regione. Hanno promesso quasi 200 milioni di euro un anno fa, a un anno dall'approvazione di quelle leggi pochissimo è arrivato sui conti correnti di imprese, comuni, famiglie. E poi le vicende soprattutto delle case di riposo, hanno lasciato a piedi tanti lavoratori delle case di riposo che non ricevono lo stipendio, addirittura sono arrivati a chiudere una casa di riposo, quella di Sant'Omero. E nella legge sono previsti 7 milioni di euro proprio per aiutare le case di riposo, i lavoratori, i pazienti, le famiglie. Così come il settore turistico, hanno promesso fondi per i ristoranti, i B&B, tutto il settore, la balneazione e quindi gli chalet offesi dalle mareggiate, nulla, ad oggi non hanno erogato un centesimo a tutto il settore. Purtroppo le difficoltà dell'economia regionale sono gravi, sono drammatiche e la Giunta regionale pensa al Napoli Calcio, al Festival dei Cartoni Animati e ai continui rimpasti di Giunta.